Ciao Benvenuti in questo nuovo audio ASMR Sono qui Per farvi sentire Più rilassati Più rilassati dal solito Mi sentite vicino Ora mi allontano Mi allontano Ok Sono lontano Adesso mi avvicino Mi avvicino Mi avvicino Eccomi qua Sono avvicino Sì 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 Sì. Sì. Vi piace? Immagina. Il mondo diverso. Anzi, immaginati. Un prato che pian piano diventa sempre più grande e sempre più bello. Scaccia i pensieri malvagi. Scaccia i pensieri malvagi. Scaccia i pensieri malvagi. Scaccia i pensieri malvagi. Spero che tu possa dormire bene. Spero soltanto per te. Perché? Sono qui per... Sono qui per farti rilassare. Pia tante volte. Più di mille volte non so. Se funziona. E l'audio ASMR. Sì, sì. rilassati rilassati avrai tempo ti posso aggarezzare piano piano con la mia mano un secondo rilassati 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 ora mangeremo qualcosa justify rilassati non ça Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono sempre quando hai bisogno. Grazie a tutti. 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 È un tè buonissimo all'Arizona. Grazie a tutti. 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 Iscrivetevi al mio canale. E al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.